l'acqua vengono usate per l'intervino qui sotto, qui dentro ah, dentro o qua? si quello là è un piccolissimo chiostrino che per nessun motivo al mondo mi voglio prendere le visite quando hanno costruito queste loggie qua qua c'è adesso mettete su facebook così le suore mi dicono eccole portate nella plasura queste foto qua non le mettete no, d'accordo però quelle di sopra si? delle fresche? si perché c'è qualcuno che le ha messe si si no, io lo so vorrei che poi